Hanno detto mica che smettevano le 9 e mezza Sì, così hanno detto gli svizzeri ma gli svizzeri stamattina mi sa che hanno dormito troppo Dice che sono già in festa di Natale Gli svizzerotti hanno mangiato il panettone Gli svizzeri 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 Grazie. Grazie. Bella e diversa. No, questa no. C'è da far ballare l'occhio, forse per il fango, ma non lo so. Il primo pezzo no, è tutto bello fluo. Eh sì. Ok. Questo con l'asciutto è affigato. Ok. 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 si dritto di là vai a fare l'altra no di là vai a fare la moya karashe quella che arrivava la sotto con tutti che abbiamo visto un po' vai vai cazzo che città alla schiena occhi e ghiaccio qua in mezzo buongiorno 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qua è sbagliato la linea però, c'era da stare a sinistra. C'era da stare a sinistra. Grazie a tutti. Aspettiamo gli altri. Auri. Ma come c'ha aperto? Le gambe sghiacciate. Non l'ho mai vista. No. Con tanto di... Il gallo quello lì dovrebbe essere, scusami. Si chiamerà... Eh? Si. Alimorte. Cioè, tu quando si fai dal basso che vuoi salire lì, arrivi lì sotto, no? E' già andato? Si. Si. Però devi tagliare dentro. Se tiri dritto non lo vedi. Quello è dove ha fatto la foto al palla qualche volta fa. Si. Su quelle... Si. Lui era sul basso. Penso che sia quello. Però è l'unico che c'è. Sono congelato. Sono inquieti di piacere. Ah. Cazzo. E' un tempo di merda. Però, tipo, questa foto qua sarebbe una cosa spettacolare. Eh, adesso si è aperto. C'è la luce. Ostia. La really è preparata! Sì. Grazie a tutti. 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 Solle. Adesso che abbiamo finito.